Il gol del primo tempo, il gol del vantaggio di Montolivo, tra l'altro coincidenza, segnano i due, come dire, trequartisti di questa nazionale, o coloro che si stanno alternando in quel ruolo, prima Montolivo e poi Quigliani. Qui abbiamo visto il rigore realizzato da Xavi Alonso, un fallo dubbio, qui vediamo l'uscita dal campo di Cassano, il miglior Cassano della gestione Brandelli, lo ha detto anche Cesare. Assolutamente, non l'ho mai visto io giocare con questa intensità, con questa determinazione, ha fatto solo un grande errore. Qui nel secondo tempo, quando ha cercato, gli è rimasto due, aveva due idee in testa, non le ha completate nessuno. Voleva prima tirare, poi servire, ha perso quell'attimo. Hai ragione, la miglior prestazione di Cassano. Responsabilizzato dal fatto di giocare a casa sua, responsabilizzato dalla fascia, forse, e magari avremo modo di sentirlo Cassano, forse questo regalo, questo omaggio della squadra che gli ha voluto consegnare alla fascia di Capitano in questa occasione lo ha esaltato, lo ha motivato e ha detto, beh, gli devo regalare la mia prestazione migliore. E così è stato. Eccoci invece al gol di Alberto Aquilani, entrato nella ripresa, è decisiva la deviazione, però il fatto che l'azione si sia svolta in maniera perfetta. Palla dal fondo, appoggio dell'attaccante alle spalle e gol di Aquilani. Azione da scuola calcio questa, Beppe. Azione da Spagna. Da Spagna, esatto. Montolivo e Marchisio e lo stesso Aquilani sono giocatori che possono giocare tranquillamente nella squadra a Spagna. Tranquillamente? No, beh, io me li tengo io. E qui vediamo il grandissimo numero di Mario Balotelli che avrebbe avuto migliore fortuna. Il fisco finale dell'arbitro Italia batte Spagna.